Il problema di fixer thing è che è alla parte alla fine Ma lì è un tumore, non si capisce un cazzo Prova a fare rampage di Vlac, è abbastanza facile 2.0 Non ci sono i mucchi, ti rompo l'inforzione, dai Uuuh Mamma mia, finalmente, che spincoffer di merda Da un uomo è finito Almeno questo Ma cos'è, è tipo hardymon questo? No, è 9 stelle Ma dico, di difficoltà effettiva Io penso unisimi di un bello Però cazzo, ragazzi Però hai fatto bene Quello sì, mi piace un po' Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.